Il territorio nord-ovest rivendica, sostenuto anche dei dati che sono emersi adesso dall'analisi si strà effettuata sulle celle della telefonia mobile, quindi i passaggi delle persone che transitano sulla zona ovest, appunto questi dati sostengono la necessità di avere una mobilità sostenibile di tipo metropolitano, quindi una metropolitana e non solo una ferrovia. La Torino Ceres, che è interessata dai lavori che stanno procedendo in questo periodo, è una metropolitana e quindi come tale è integrabile con il sistema metropolitano, è una ferrovia che è integrata con il sistema metropolitano, di conseguenza le due cose devono fare sistema insieme, i due sistemi di spostamento e non sono alternativi l'uno all'altro. Venaria in questo momento subisce una forte penalizzazione avendo sul territorio dei punti di interesse notevoli, come ad esempio ricordiamo lo stadio della Juventus che porta tutte le settimane, non solo l'infrasettimanale ma nel sabato e la domenica soprattutto, una grossa presenza di turisti, di tifosi che ovviamente avrebbero bisogno di una mobilità sostenibile in maniera diversa. Oltre a questo abbiamo la struttura sanitaria che è in fase di completamento e che servirà non solo la zona di veneria ma tutto il territorio nord-ovest e in più andiamo ad aggiungere il teatro metropolitano presente a veneria, la reggia che ha un grosso interesse come numero di spostamenti annuali ed è forse il punto di interesse più grosso, zone industriali e quant'altro a scendere come numero di interesse. Per ultimo l'aeroporto di caselle che ovviamente rimane sul tracciato. Ci sono delle ipotesi ma noi non essendo tecnici l'ipotesi di percorso deve essere avallata da un'analisi molto più tecnica che non politica. Oggi noi come politici rivendichiamo in prima battuta la necessità territoriale di avere una struttura di questo genere. Sul corso Grosseto il Comune di Veneria ha presentato un ricorso al TAR di Roma per alcuni difetti procedurali che noi riteniamo essere importanti sulla gestione del progetto di corso Grosseto. È stata fissata l'udienza nel mese di febbraio, il 19 se non mi ricordo male, per cui aspetteremo a vedere l'evidenza del TAR che ci darà e le considerazioni filali che verranno effettuate. Come visione di mobilità complessiva abbiamo oltre ai punti di interesse per gli spostamenti, quello sul quale sta lavorando la veneria come città per sostenere anche i turisti e quindi dare uno slancio al territorio tutto. Sono dei nuovi progetti che si stanno portando avanti, ereditati dal passato ma completamente stravolti e rivisti. Il Movicentro è uno di questi. È situato e verrà costruito in prossimità della stazione Roma di Veneria Reale della Torino Ceres e prevederà un interscambio gomma-treno o gomma a piedi per i turisti che si vorranno arrecare alla reggia o a visitare il territorio, la città di Veneria. Questo significa che nell'anno 2019 inizierà e verrà completato secondo le stime progettuali che abbiamo e cronoprogramma disponibili, verrà progettato questo Movicentro che sarà reso disponibile a tutte le persone che ne vorranno fare uso oltre che a mezzi più importanti come Pullman e quant'altro. L'8 dicembre è prevista la manifestazione in ottava qui a Torino al quale il Comune di Veneria ha aderito e sarà presente sia con la fascia tricolore che con il gonfalone della città e come tutte le altre volte alle quali abbiamo partecipato in Val di Susa o in altre località. È notabile perché come ho scritto in alcuni post, andando ad analizzare da fonti esterne quindi sicuramente analisi tecniche attendibili, i costi di questa infrastruttura a fronte delle esigenze presenti a livello territoriale sono ingiustificabili e insostenibili. Noi abbiamo bisogno di interventi urgenti e immediati sul territorio che vanno dal ripristino delle strutture scolastiche alla realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità alla costruzione di un ospedale. Quello di oggi, ricordiamo, è una poliambulatorio quindi una struttura sanitaria l'8-1 ma anche l'8-2 che richiederebbe un forte finanziamento e forti risorse per poter essere completato e per dare al territorio quello che veramente serve. Quindi un ospedale con tanto di pronto soccorso, camere operatori e quant'altro sale operatori e quant'altro. Noi riteniamo quindi che il costo che è stimato tra i 130.000 e 500.000 euro al metro come emerge da alcune analisi della TAV possano essere risorse spese in maniera diversa e molto più interessanti. Il traffico delle merci che giustifica quest'opera in realtà si è dimostrato sbagliato e completamente inattendibile. Si prevede un incremento esponenziale dal 1990 delle merci sull'asse del Freius e del Mocenisi in realtà questo non sta succedendo anzi le merci stanno decrescendo in maniera importante. Come si è visto delle 40.000 persone molte non sapevano neanche di cosa si stesse parlando addirittura gli organizzatori hanno avuto la prontezza di dichiararlo pubblicamente in televisione il che fa scadere completamente quella che è stata la manifestazione di sabato. Lotto comunque saremo presenti alla manifestazione in ottavo per confermare l'insostenibilità di quest'opera. Relativamente alla manifestazione di Torino come qualcuno ha fatto notare se nei prossimi 30 anni continueranno a manifestare tutte le domeniche come fatto negli passati 30 anni dal movimento Notav allora andremo a riparlarne perché vorrà dire che sono persone che se sono documentate sapranno portare avanti la loro richiesta.